Zita, c'è la partita con la Viterbese. Partita, guardando la classifica, potrebbe sembrare facile, ma non è così. No, come sempre dobbiamo andare forte, giocare bene e ogni partita dobbiamo fare bene. Sì, siamo primo in classifica, ma vuol dire niente, sempre forte, forte, forte. Prima partita tu hai segnato e hai fatto l'assist decisivo, poi sei diventato uomo assist per Zappella. I quarti o quinti, che dir si voglia, stanno facendo molto bene. Sì, sì, è vero. La prima partita abbiamo giocato qui a casa, ho fatto un grande partita e così dobbiamo giocare sempre. A casa è meglio di giocare fuori e basta. Hai detto dopo quella partita con l'Ancona, oramai mi sento un delfino, forza delfino. Sì, sì, sì. Come sempre io sono un delfino. Basta, sono un delfino. Domani ti senti di dire qualcosa al pubblico? Perché dovrebbe venire numeroso. Sì, non lo so che dire, ma sono un delfino. Basta. Magari domani prometti un altro gol. Sì, speriamo che sì, magari. Hai. Grazie.